Finalmente il debutto stagionale per Federico Serraiocco, l'estremo difensore classe 93 titolare designato alla difesa della Porta del Teramo ha riassaporato le emozioni di una gara ufficiale dopo un'estate guastata da un fastidioso infortunio al ginocchio, protrattosi per diverse settimane. Così il portiere ex Chievo Primavera e Scuola Pescara ha saltato un pezzo di preparazione, le due partite di Coppa Italia, di Serie D e Team Cup, e le prime sei partite di campionato, le ultime tre trascorse in panchina in attesa di una condizione accettabile. E quindi l'esordio, domenica scorsa a Martinsicuro contro il Miglianico. Un po' la necessità di abituarsi alla partita, un po' l'emozione, l'inizio non è esaltante con l'uscita in cauta su De Leonardis che con un lob pizzica il palo, ma la partita nasconde più insidie del previsto e Serraiocco cresce alla distanza, se il Teramo porta a casa un punto gran merito e anche dei suoi interventi nella ripresa, in particolare su De Luca durante il recupero. Prima di tutto, sensazioni e emozioni per questo debutto? No, è stato sicuramente bello tornare in campo dopo tanti mesi di assenza, potevo fare meglio, poi sono stato anche fortunato perché sono riuscito a fare una parata importante e finire il risultato a fine partita. Ecco, magari ti aspettavo una gara un po' più tranquilla. Sì, magari non mi aspettavo di essere chiamato così tanto in causa, però sono fortunato perché comunque mi ha dato una bella sgrassata per il futuro. Tu che l'hai vista dalla porta, hai visto un po' tutta la partita, che idea ti sei fatto? Perché questa è difficoltà del Teramo contro una squadra che obiettivamente è di livello inferiore? Sì, di livello inferiore, però quando trovi una squadra che si difende con dieci uomini tra la linea della palla non è mai facile poi alla fine trovare gli spazi giusti. In più il campo era anche piccolo, magari potevamo fare un pochettino meglio, però bisogna anche dare merito a loro. Il prossimo impegno con la Iesina, si chiede subito una risposta importante perché come ben sai l'obiettivo è di vincere il campionato. Sì, dopo un pareggio è chiaro che qui a Teramo ci aspetta subito una vittoria, noi daremo il massimo e speriamo di vincere. Competizione sempre aperta con Cialdini. Assolutamente sì, poi il mister farà le sue scelte in settimana. Grazie a tutti.